Pordenone celebra il grande storico e critico della fotografia, a sua volta fotografo di origini spilimberghesi, Italo Zagner, in occasione del suo ottantesimo compleanno. E lo fa con una mostra agli spazi espositivi Parco 2 in via Bertossi, promossa e organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Pordenone. L'assessore comunale Claudio Catarruzza. La mostra vuole rendere un omaggio alla figura di grande intellettuale, il fotografo di Italo Zagner, ricordiamo che è stato il primo storico della fotografia, il primo docente di storia della fotografia all'università, quindi questo ci sembrava un doveroso omaggio. La mostra inoltre ci permette di fare un viaggio attraverso l'evoluzione tecnica e storica e cronologica di quello che è stato lo sviluppo della fotografia nel Novecento. Quindi ci permetterà con dei pezzi che avremo modo di poter ammirare, estremamente pregiati ed interessanti, proprio di percorrere questo lungo itinerario su quest'arte che in Italia è stata considerata sino un po' di anni fa un'arte minore, ma che ora rifugia il suo splendore come tutte le altre arti visive. Oltre 300 preziose fotografie e una cinquantina di importanti volumi provenienti dalla nuova collezione di Italo Zagner, punto di riferimento sia a livello nazionale che internazionale, che attraversano l'evoluzione tecnologica, espressiva e culturale della fotografia dalle sue origini ai giorni nostri. Preparare una mostra così articolata e complessa come questa per me è stata una nuova occasione per insegnare, diciamo, nei limiti delle mie capacità la storia della fotografia, che non è la storia del gioco delle bocce, né la storia del gioco degli scacchi. E' la storia di un'epoca, quella dell'iconismo, quella dell'immagine, che noi viviamo. E tutto è nato dalla fotografia. 1839. Non esiste altro che la fotografia oggi nel mondo della comunicazione.